Ormai ci siamo e questa è la settimana del derby, una partita importante ovviamente per voi per quanto riguarda la salvezza, una partita che tu senti in modo particolare oppure contano alla fine i tre punti? Io non ho sentito tantissimo quella che abbiamo giocato al palazzetto, quindi non sento neanche questa. Ormai dopo anni di allenatore è normale che le partite non si sentono più una volta, abbiamo un po' più di testa e meno cuore. Cosa chiedi alla tua squadra per la partita di sabato? Appunto io chiederò questo ai ragazzi, quello di non sentire troppo l'ansia del risultato perché il risultato non conta, soprattutto in questa partita, conterà il risultato che faremo a fine campionato, quindi la salvezza. Noi dovrò puntare a quello, se poi passerà per questi tre punti è bene, se non dovesse passare per questi tre punti è lo stesso. Il fatto che si giocherà da voi, quindi qui a San Liborio, è un vantaggio secondo te oppure cambia poco? No, non cambia assolutamente niente per due motivi fondamentali. Il primo perché non è cambiato nulla quando siamo andati noi da loro e quindi non vedo perché debba cambiare quando loro vengono qua. Il secondo perché tu sai che adesso c'è un bel rapporto tra le due società, quindi nel rapporto di collaborazione si può restaurare, loro qui vengono a fare l'allenamento del lunedì quindi voglio dire, e anche qualche altro allenamento hanno fatto, quindi hanno anche esaggiato il campo, quindi sono abituati anche loro. Per quanto riguarda infortunati e squalificati, avrai a disposizione tutti o mancherà qualcuno? Beh, a parte persi, squalificato una giornata, è il solito potuti, per il resto ho tutti a disposizione. Allora Umberto, ormai ci siamo, siamo praticamente alla vigilia del derby, l'atteso scontro salvezza per voi e l'atletico Civita Vecchia, come l'affronterete voi della Rosati Utenzi? Bene, scendiamo in campo per vincere, perché comunque oltre che un derby è una partita fondamentale in chiave, come hai detto tu, in classifica, quindi la vittoria ci permetterebbe di superarli, addirittura con una gara a meno, quindi potrebbe essere svolto il campionato. Quindi sarà importante vincere oppure anche non perdere? No, guarda, scendiamo in campo per vincere, perché all'andata, per miei errori e per un po' di sfortuna abbiamo perso, quindi abbiamo voglia di rivolsa contro di loro. Come hai visto il tuo gruppo in questa settimana di allenamento? Guarda, le settimane sono due, perché questa è stata la sosta, quindi abbiamo lavorato tanto e stanno molto bene, quindi sono molto fiducioso. Mancherà qualcuno, ci sarà qualche assente oppure avrai tutti a disposizione? Guarda, tutti a disposizione, ho detto Salvatica, infortunato per il resto ho tutta la rosa a disposizione. Per quanto riguarda la partita di sabato, che cosa ti aspetti anche dall'atletico? Temi qualcuno di loro? Che cosa ti aspetti? Temo, beh, sono squadra giovani, quindi soprattutto la vivacità con cui affronteranno la gara. Per quanto riguarda noi, ti ripeto, spero di non fare l'errore dell'andata. Abbiamo preso degli accorgimenti, quindi sono sicuro che faremo bene. Grazie per l'attore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti